Albanella, inciviltà assoluta, desurpazione dell'ambiente, abbandono indiscriminato di ogni sorta di rifiuto e discariche abusive che spuntano come funghi. L'amministrazione comunale del sindaco Renato Iosca non ha nessuna intenzione di tollerare ancora simili comportamenti. Toleranza a zero e controlli costanti del territorio comunale, assicura il primo cittadino. In uno dei siti sono stati scoperti anche resti di macellazione, ossa, pezzi di carne e frattaglie di ogni genere. Purtroppo per lui l'inquinatore non è stato così furbo da non rimanere tracce. Grazie alle fatture rinvenute sarà denunciata alla procura e risponderà penalmente del suo comportamento. I resti di macellazione degli animali sono stati abbandonati lungo la strada provinciale 11 in località Iscalonga. Altri tre inquinatori sono finiti nella rete dei controlli effettuati dalla polizia locale diretta dal comandante Luigi Guarracino in collaborazione con il personale della SARIM. I controlli non si fermeranno, afferma Iosca. Abbiamo perlustrato vari siti dove sono stati rinvenuti comodi di rifiuti di ogni genere. Procederò con delle ordinanze di rimozione della spazzatura al fine di bonificare le aree. Grazie ai documenti sensibili rinvenuti saremo in grado di risalire responsabili. Non è possibile che a causa di alcuni cafoni, continua Iosca, il nostro territorio venga deturpato. Il comune di Albanella ha una percentuale altissima di differenziata, oltre l'80%, e non può essere penalizzato per l'inciviltà di qualcuno. Quattro gli inquinatori individuati, tre dei quali residenti nel comune di Albanella, sanzionati per l'abbandono abusivo di rifiuti. Il macellaio invece sarà denunciato penalmente. Le aree saranno sottoposte a sequestro. I controlli sono stati effettuati lungo la SP11 nella parte interna di Scalonga, dove è stata rinvenuta un'altra maxi di scarica. Saranno installate, conclude il sindaco Iosca, almeno una trentina di fototrappole nei posti più impensabili. L'ambiente è di tutti e lo dobbiamo preservare. Grazie a tutti.